Sulla scala ci si dedica alla raccolta della frutta Rivediamo Un bel tuffo in un centro commerciale alla ricerca della porta d'uscita Ehi, torni indietro Poi Il lancio dell'aeroplanino Forza, facciamo una bella foto di gruppo Pronte? Così, così Sorridete? Bene, eccola Occhio È venuta mossa Questi sono sposati da poco Questi altri da molto più tempo Infatti lui non vede l'ora di perdere la moglie Ah, è il momento del sì Arriva il terzo intruso Aia che botta Yoga in solitario Prova di equilibrio sulla tavola Valida Gioco scemo con elastico Lo rivediamo Lo rivediamo Il tuffo Una corsa di bimbi per le vie del paese È il momento del brindisi È il momento del brindisi Aia È già da divorzio Rivediamolo Guardate 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 il cane là in fondo Vabbè Sarà buon auspicio Questo è bravo, eh Cioè, era partito bene Rivediamolo Ah, bastardo di merda Quello Faceva il finto FK Eh, si esageva, eh Guarda che roba Che botta Grazie a tutti